Tutti in coda, in via Mazzini numero 46, vietri sul mare. In attesa dell'insediamento della nuova società si riduce il numero di calciatori a disposizione di Zavettieri. Dopo il passaggio di Magri alla Cavese e Minci Calmodica, anche Valentini saluta la Nocerina per accasarsi al Florida. Nelle prossime ore sarà la volta di Scaringella. Da verificare anche le posizioni di Ambro e Cuomo e degli Underbaldi e Stagos. Sono quattro calciatori che hanno mercato e potrebbero chiedere lo svincolo come fatto dai loro colleghi. Zavettieri alla vigilia della sfida di sabato contro il Bitonto ha un organico sempre più ridotto e aspetta segnali positivi dalla nuova società. Al riguardo, fra oggi e domani, dovrebbe essere ufficializzato il passaggio di consegne da Natale Scalzi al gruppo di imprenditori locali, chiamati ad ufficializzare anche l'organigramma. È sempre corsa contro il tempo, anche perché l'organico, dopo tutti gli svingoli, va integrato per permettere alla Nocerina di non essere risucchiata nelle zone pericolose della classifica.